Partiamo dalla riete. Qualche piccola discussione potrebbe rovinare il bel clima di questa domenica durante il quale il partner non sembra comprendere pienamente le vostre esigenze. Toro. Con il partner l'inteso funziona a fasi alterne. Oggi, per esempio, potreste avere punti di vista differenti su molte questioni, a partire dalla gestione delle questioni familiari. Gemelli. Evitate di credere a qualche cattiveria che vi viene detta solo per mandare in crisi il vostro rapporto di coppia. Oggi, infatti, potreste essere vittima dell'invidia di qualcuno, ma l'importante è aver fiducia nel proprio partner e questo cancella tutto il resto. Cancro. La vita affettiva vi riserva qualche sorpresa, magari potrebbe non essere del tutto piacevole. Infatti, la vostra dolce metà potrebbe tirar fuori qualche lato del suo carattere. Leone. Siete in splendida forma fisica e il successo non mancherà durante questo fine settimana, che vi vede al centro delle attenzioni di qualcuno. Nel caso foste già in coppia, attenti a non suscitare le gelosie del partner. Vergine. Le stelle consigliano di stare in compagnia di persone care, in grado di supportarvi con affetto sincero. Infatti, in certi momenti, potreste essere vittima di qualche piccola nostalgia che vi spingerà a guardarvi dietro le spalle. Bilancia. L'umore è buono. Voi siete ben disposti a mettervi in gioco e così la domenica potrebbe regalarvi qualche momento ricco di emozione. Giornata da dedicare ad un proprio hobby personale per ritrovare la giusta armonia interiore. Scorpione. Se qualcosa con il partner non funziona come vorreste, ditelo apertamente. Fare i musilunghi o intraprendere noiose battaglie psicologiche servirebbe solo a rovinarvi il fine settimana. Sagittario. Casa e famiglia richiederanno la vostra attenzione durante questa domenica, in cui potreste non riuscire a rivendicare un po' di spazio per voi stessi. Chi è ancora solo non riesce a tirare le somme di un incontro che non sembra andare da nessuna parte. Capricorno. Non è una domenica di tutta tranquillità. Sarete molto nervosi e poco disposti ad andare incontro alle esigenze degli altri, a partire da quelle del partner. Potreste avere qualche calo di energia psicofisica. Acquario. Avete voglia di fare qualcosa di speciale per uscire dalla solita routine. E allora affidatevi ai programmi di un amico, che saprà regalarvi un fine settimana in linea con i vostri desideri. Pesci. Un invito fuori città potrebbe essere il preludio per una domenica molto divertente e fuori dalle righe. Anche chi rimane in casa però potrà contare su qualche programma piacevole. Soprattutto chi è ancora single, non perde l'occasione di frequentare gente nuova. Grazie. 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 Grazie.